Nella mia vita non ho mai avuto enormi certezze, sono sempre stato una persona abbastanza dubbiosa, ma di una cosa sono sicuro, se quest'opening sarà peggiore di quella di Meta Ezio, andrò a casa di Gaming Tonight a rubargli SP. Sono abbastanza convinto di questo. Yu-Gi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi, come vi ho già anticipato, andremo ad aprire un box di Age of Overlord, sperando di trovare SP. Sì, perché vorrei averla per poterla vendere, in quanto ne ho già comprate due e sono già partiti 163 euro e 40 centesimi, quindi vorrei rientrare di qualche soldo. Ovviamente se mi esce anche Typhoon, roba di Bellestar o roba Horus, assolutamente non sono qui a dire che schifo, visto che mi servono anche queste cose e non le ho comprate perché i fondi sono tipo molto pochi attualmente. Ovviamente, ragazzi, però prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Card Game Corner, ovvero il mio sponsor per l'acquisto di prodotti TGC, che sia carte singole o prodotto sigillato. Trovate ovviamente il link del loro store qua sotto in descrizione, insieme anche al mio codice sconto, ovviamente. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yu-Gi, Magic, Pokémon e One Piece, che stanno diventando un po' tutto una droga, ma dettagli, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare. Detto questo, vediamoci un attimo lo spoiler e poi procediamo subito con l'unboxing. Bene, ragazzi, attualmente la situazione è disastrosa, più o meno, a livello di prezzi, perché a parte le Quarter Century e SP, che sono a prezzi insensati, andando subito a vedere le Secret, abbiamo SP in versione Secret, che attualmente costa quanto il mio rene destro, probabilmente, visto che sono una persona in salute e quindi può valere qualcosina di più, e da posizione Italia si aggira sui tipo... Ah, 85 euro, onesto. Era partito da 70 in pre vendita, eh? Questa roba arriverà a 100, sono abbastanza sicuro. Poi, vabbè, abbiamo Maghi e Legame dell'Unità, che è scesa così tanto, ma sta roba non la vuole nessuno, che schifo. A parte quello, andiamo alle Secret, abbiamo ovviamente la carta magia di Bellestar, che ovviamente si gioca in playset e non ve la regaleranno mai, assolutamente. Sì, 49 euro il playset. E poi, eh... sì, andiamo a vederci... Vabbè, questa fa schifo. Andiamo a vederci le carte Horus. Abbiamo Imsetim, che sta sui 26 euro, fortunatamente è un pochino sceso. Poi abbiamo il mosto di Bellestar, la strega, che, ragazzi, è la mia waifu di questa espansione. Non ce n'è una più bella, guardate. Anche il livello di colori è incredibile. Anche questa è scesa rispetto a prima. Vabbè, tanto si gioca in monocopia, quindi il problema non sussiste. E c'è Tai... ah, è Quarter Central, un attimo, perché l'ho vista a 18 euro e ho detto ma che cazzo succede? Poi, vabbè, abbiamo Typhoon, che... va bene, sta sempre scendendo. La Ultra Horus, che è crollata. Il mostro Labyrinth, che anche questo non costa più un cazzo. E... spero tanto di non trovare Diamou Tef, perché altrimenti potrei morire. Nel senso, perché ce n'è uno di carta Horus che mi serve. Non è quella. Detto questo, andiamo a spacchettare. Andiamo con l'aprirlo e tiriamo fuori il box. Allora, spero in una botta di culo, perché, nel senso, l'avete vista all'opening di Luca e a questo giro potrebbe aver trovato lui la carta costosa. Incredibile, non dovrà mai più succedere. Se tutto va come deve andare, qua dentro c'è SP in versione Quarter Central. Io quindi partirei e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Allora, andiamo con il primo. Abbiamo Spoglio del Peccato, Vat Regno, Barbie, perché l'altro si chiama Ken. Poi Freccia Rossa e la prima carta Foil, Berfo, mette la fusione. Ok, carino. Un'altra carta che va con l'Illusionista. Boh, la butteranno in Branded Chimera fondamentalmente. Poi il resto è abbastanza faltoso. Andiamo con il secondo e vediamo se già ci iniziano a dare qualche gioia. Non credo. Abbiamo Tarai, di nuovo Vat Regno, Sguardo Impressionante degli Occhi di Serpente, carta Snake Eyes. Poi Papillon Rosa e il primo Horus, il Super. Ok, meglio lui che altra roba. Va bene, anche se ci sono due carte buone per Horus. Le altre fanno tipo sboccare. Ma va bene. Allora, ovviamente quelle utili sono quelle Foil. La Secret da 25 euro e la Trappola. Sì, la Trappola, la Magia, il Sarcofago. Allora, abbiamo carta Tistina, che poi le vecchie carte Tistina di Dune erano salite appena sono stati annunciati i supporti. Poi abbiamo Mosto Snake Eyes. Per il resto, boh, carta Immortale, per il resto. Vediamo se ci sarà qualcuno tanto pazzo da montarsi. Tanto i vecchi supporti sono stati ristampati quasi tutti, quindi dovrebbe essere troppo fuori mercato. Abbiamo il Tonno Riumare, poi abbiamo la Bambina, lo Sgominanima, poi Ufoluce. E apriamo un prossimo pack. Vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Allora, abbiamo un'altra Minorenne. Bushi, Re Supremo, Tarai e un TG, uno dei nuovi supporti. Ho visto il TG, avevo un TG vecchio, verde, non mi ricordo come si chiama, che era salito un pochino di prezzo. Però, vabbè, niente che ha influenzato gli altri supporti, le altre carte vecchie. Io già ho l'acidità di stomaco per quello che ho già trovato, quindi vediamo. Abbiamo trasportatore da combattimento e... No, 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 proprio no. Ale, Ale. Mi sa che ci manca poco, eh. Io confido nell'altra carta foil, Secret. Altrimenti so, ha lo stesso livello tuo e toccherà andare palesemente a casa di Luca, a fregaglie quella cazzo di SP, eh. Tanto lui è sempre fuori casa, che sta in treno, quindi non si accorge, non le usa le figurine. Abbiamo protettore, Canopicco. Altra carta però. Fermi, ragazzi, so che questo pack opening sta andando veramente male, però si riprenderà. Quindi, se volete supportarmi, vi basta solamente lasciare un like, accendere la campanellina e iscrivervi. A voi non cambia niente, ma a me permette di far arrivare questi video a tutta la community. Così forse per fine anno a 5k ci possiamo arrivare. Grazie per chi lo farà e vi lascio il video. Che palle, che palle, dai. Dopo una Secret del merda del genere, almeno una seconda che sia accettabile. Allora, abbiamo Cavaliere Stellante, Sharv Sarga, Genna, sì. Poi Anima del Re e altra carta Snake Eyes. Ok, wow, incredibile, monitorò Snake Eyes in futuro. Allora, andiamo col prossimo. Dai, almeno una gioia. Uh, ma è una carta Dragon Maid. Che belle. No, che bella lei. Cioè, lei è la mia waifu del Dragon Maid. Ragazzi, ma ci pensate mai che il giocatore di Yugi è tipo il fidanzato perfetto? Uh, che culo che ho, finalmente. Una carta umana, grazie a Dio. Una carta da 6 euro. Però almeno questa mi serve e non dovrò comprarla. Molto bello. Comunque vi stavo dicendo, è il fidanzato perfetto. Perché nel pratico, in primis, non spenderebbe soldi per altre ragazze. Perché, ragazzi, con tutti i soldi che spendiamo in figurine, non credo di avere soldi per un'altra relazione. In più, l'amore è solo verso personaggi 2D. Capisco se vi innamorate della Witcher Diabelle Star o della Dragon Maid Cucina. Perché nel pratico, cioè... Poi, per il resto, che ve frega. Tanto non dovete neanche litigare. Andiamo con il prossimo. Apriamo. Qualcosa di più carino. Dai, un'altra... Un altro sarcofago. Ok, ok. Avevo capito fosse lui, ma non mi ricordavo se l'avessero fatto Secret. Meglio. Come Super è onesta. Ok, ci posso stare. Andiamo con il prossimo. Spero in una Quarter Century. Adesso ho la Quarter Century di Tistina, perché lì sarebbe proprio uno smacco alla mia voglia di vivere. Però, qualsiasi altra mi va più che bene. Poi, se SP... Niente, se SP... E gode. Si gode e me la tengo. E me vendo quella Secret. Almeno, all'ICS flexo quella costosa e me la faccio rubare. Allora, abbiamo Trasportatore a Combattimento. Spoglie del Peccato. Anima del Re Celestiale. Ufo Luce. E apri un altro Horus. Va bene. Nel caso me ne serviranno uno di questi Super Celio. Allora, dai. Più che altro perché mi servono in Centurion. Quindi vorrei recuperarli tutti prima dell'uscita del ma. Allora. E poi sono bellissimi. Sono degli artwork veramente figli. Allora, andiamo... E vediamo... Va bene. Lanciere, Cavaliero Oscuro, armatura completa. Avevo visto nel video di Ale che era carino con quell'altro. Perché quell'altro faceva un pesco 1. Lui non mi ricordo, ma vabbè. Non mi serve. Perché io non posso avere il box che sbusta the game? Che tipo lui becca tipo Typhoon. La... E poi è vero, Typhoon è ultra. Io mi sto giocando tutte le ultra con sta merda. Va bene. Teoricamente ce n'è ancora una. Il beccare lui non sarebbe male perché non l'ho comprato. E sarebbe un gran plus. Armatura fortezza exis. Vabbè. Dai. Vorrei trovare quello che non ho comprato. Per favore. Quindi praticamente tutto il resto. Allora. Abbiamo trasportatore da combattimento. Digicchiusura. Papillon rosa. Shinobi varonessa. Oh! Snì. Nel senso. Ottima carta per i mazzi fuoco. Soprattutto adesso che uscirà il mazzo Fire King. Con i supporti nuovi. E quindi ci sta. È una carta da un euro. Va bene. Me la tengo. È rimasta una secret da trovare. E forse la Quarter Century. Ci sono ancora tanti pacchetti da trovare. Sì. Ragazzi giuro che se il box è fallato. Perché me ne è capitati. Sbrocco. Sbrocco veramente male. Perché non accetto il fatto che Colossa becchi tre secret e la Quarter. E io mi becchi una ultra. No. Una secret e basta. Dai. Dai per favore. Api. Dai. Allora. Non ci credo. Ormai non c'è più niente. C'è la secret. De merda sarà sicuramente il TG. E basta. Allora. Le stelle si allineano. Tanto lo sappiamo che i box miei e De Luca si alternano. Uno è buono e uno è una merda. Infatti. Ali della luce. Con supportino Zark. Wow. Dai. Dai. Voglio crederci. Voglio credere che qua dentro ci sia una carta decente. Per favore. Ok. Ok. Tanto come Link Super ci dovrebbe essere solo lui. 2x va bene. Va bene. Allora. Ci sono rimasti 4 pacca. Sarebbe bellissimo che ci sia una secret buona e una corta. Ma non ci credo neanch'io che lo sto dicendo in questo momento. Andiamo con il quarto ultimo. Re Supremo, Drago, Luce, Worm. Bot Yuki, Affido Xyz, Trasportatore e Spoglio del Peccato Tradimento, Sivera. Ragazzi ho veramente paura che non ci sia niente. Che non ci sia la seconda secret. Ogni tanto li fallano i box. Perché deve capitare proprio a me? Per favore. Charm Saga, TG Chiusura, Frecce Rosse. Sì! Sì, 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 godo. Mamma mia. Almeno. Ah, ok. Una carta interessante è uscita. La magia di Bellestar. Dovrebbe stare sui 50 euro come abbiamo visto prima. E ok. Va bene. Il box si è ripagato. Considerando che è roba che avrei dovuto recuperare. Va bene. Ok. Ci sto. Mi va bene. Quando ho visto prima la carta Visas volevo morire. Volevo veramente morire. Allora. Rimangono due pacchetti. Sarebbe incredibile trovare la Porter Century. Ma non ci credo. Proviamo. Allora. Vediamo se riusciamo a trovare qualcos'altro. Abbiamo Cameronzella. Shinobi. Vabbè. Carta inutile. Ok. Beh. Fumet. Vabbè. Anche qua dovremmo trovare un'altra super. Vediamo. Speriamo nella Porter. Dai. Allora. Wot Kyuki. Gen. Cavaliere Stellante. Papillon. E... Vabbè. Vabbè. Il supporto Nouvelle. Ok. Ok. Va bene. Siamo senza Porter Century. Va benissimo. Abbiamo trovato la Cercatrice. Non è SP. Costa... La metà di SP attualmente. Però va più che bene. Poteva... Esserci il supporto TG. Che qualcuno ha sbustato. Invece abbiamo trovato qualcosa di molto più interessante. E lasciamo la merda quelli che sponsorizzano il covo del nerd. Ragazzi. Io ve lo dico sempre. Card Game Corner è una garanzia sempre. Ogni volta. Luca ha trovato SP. Io ho trovato la magia di Bellestar. Quindi nel pratico è andata bene a tutte e due. Ma ovviamente vi ricordo che giovedì sera alle 21 ne andremo ad aprire un altro in live. Sperando a questo giro di trovare o la Porter, una Porter bella, o SP. Ma però nel senso anche la carta volusso o altra roba di Bellestar non è da schifare. Però preferisco comunque essere. Detto questo ragazzi grazie per aver seguito il video. E noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.